Siamo arrivati a Sardegna. Sì, bravo, ho fatto un giro nelle varietà. Sì, bravo, ho fatto un giro nelle varietà. Sì, bravo, ho fatto un giro. Sì, senti quando apre. Sì, senti a destra, liberate la curata. Sì, senti a destra. 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 Sì, qua, lì, là. Sì, qua, lì, là. Arrivederci se non... E la foto ve la posso fare tutte e due? Bravissimi, ragazzi. Bravi, bravi. Stai contenti? Ti asco, bro, è un cacchio. Vai. Vai, andiamo. Quindi si è fatto male. E va bene. Vado a prendere il compagno. Sì, sì. Ma, vado a prendere Fabian. Vado a prendere Fabian. Vado a prendere il compagno. Ma, c'è un compagno che mi fa. Ha cresciuto. Vado a prendere Fabian. e di là sta consegnando la catena aspetta sta già consegnando tutto con la pettorina con la pettorina 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 c'è un po' con la foto qui dove è che poi arriva? come non vuoi? vieni vieni qua! devi accitarlo sei basso davanti! come sta facendo una foto al bifo? devo fare la foto? bravo! il cane se n'è andato perfetto però c'è un filtrato con la bandierina facciamo! ma è rossa come vuole ha scosiniamo la testa a casa date la bandiera a casa date la bandiera a casa non ci sa che devi non ci sono dai ho comune tina dove a casa non ci sono lavorare è in grado la casa la vera il nostro non c'è la provincia, c'è la provincia poi ce lo danno loro il 27 l'ultimo passaggio non devi fare così Cazzo vai subito! Dio non riesco a colosce a pagare! Adesso non si deve più niente. Ma tu sono mille a calare! Anche! Ma non è la mia uova! Eh! Che si è vicino io! Lui mi ha dato avere appunto più negli occhi! Ma medici! Capoteva bene! Capoteva bene! Capotevo bene! Gli occhi! Non sono cittadini! Ammiglia! Di 10! Il 100! C'è lo guarda! Non sono cittadini! Ma che faccio? Ma che fai io? Ti sento? Il miglioro Sì, la Spezia. Sì, la Sì, la Sì, la Sì. 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 Sì. La Sì. Sì, la Sì. La Sì. La Sì.